Ecco qua, siamo da Jolly Sport con Alfio e tutto il team del Cuneese che sono venuti a ritirare la Super Giant con un tecnico, è il tecnico più anziano che spiega che cosa deve fare. Di qua invece c'è la parte rilassata, quella in macchina che mangia e beve, la parte intellettuale, Tony che segue senza capire, i due bicchi saranno loro, ovviamente gli atleti, chiamiamo gli atleti con le bici elettriche, quindi super atleti, con le elettriche. Qua ci sono i reporter che fanno, e qua c'è, scusate lo devo, con bici elettrica e viagra via, perché l'aiutino ci vuole sempre. Remake, scusate, bici elettrica e? No, e viagra. E Charlie, Charlie.